Un caro saluto a tutti quanti da Siena, canto nuovo, siamo insieme per condividere la parola di Dio in questa bellissima apertura di preghiera e di omaggio al Re Signore, colui che è, che era e che viene, è sempre uguale, non cambia mai, abbiamo sentito, lui si chiama Io Sono. Ebbene, stasera abbiamo un tema veramente familiare per noi, lo dico anche per i molti che spesso sentendoci, seguendoci sia sul web, nello streaming, sia attraverso i molti insegnamenti che sono presenti sul nostro sito, la liberazione dagli spiriti maligni è proprio qualcosa che noi abbiamo incontrato fin dall'inizio, che abbiamo imparato sperimentandola e per noi è veramente il regno di Dio all'opera. Quindi non possiamo parlare del regno di Dio e non parlare di questo argomento. Inizieremo stasera e poi vedremo le prossime volte. Gli spiriti maligni sono chiamati così nel Vangelo, sono chiamati anche in altri modi, anche demoni, alcuni fanno differenze, il punto è che non conta tanto come li chiamiamo, ma conta che possiamo esserne liberati. Ecco, io vorrei subito venire al sodo dell'argomento, cioè come vedete è la liberazione dagli spiriti maligni, cioè tutto quello che noi troviamo nel Vangelo su questo argomento, vedendo la vita di Gesù, le sue opere, le azioni dello Spirito Santo insieme a lui, ecco, ci portano a considerare che la cosa che conta, che Gesù ci dice, è di essere liberati dagli spiriti maligni e che possiamo esserlo. È sicuramente un argomento trascurato, gli spiriti maligni, i demoni ci sono e sono molto vicini, più vicini di quello che la gente pensa, nella loro attività e come vedremo svolgono varie operazioni nei confronti degli uomini che portano tormento e afflizione, vedremo meglio dopo che cosa ci riserva questo. Vorrei subito introdurre l'argomento, siccome parliamo del regno di Dio, ecco perché è importante, perché sono due regni a contrasto quelli che emergono dalla vita di Gesù. Non sto dicendo che la nostra vita cristiana si limita a cacciare gli spiriti maligni, ecco, voglio essere molto chiaro. Dico che il potere, l'autorità che Dio ha dato ai suoi, cioè quelli che credono in Gesù, che ricevono l'ospito santo e che sono ambasciatori del regno dei cieli sulla terra, hanno l'autorità e il potere di cacciarli e di mandare via il tormento dalla gente. Ecco, questa è una cosa che viene spesso taciuta, ignorata, a volte a qualcuno fa paura, qualcuno fa sorridere, ci sono varie reazioni da parte delle persone, ma in realtà ci sono due regni che sono a contrasto, il regno di Dio e il regno di Satana, o il regno delle tenebre. Vediamo cosa dice Gesù a questo proposito. Guardate Matteo 12, 26-28. Ora, disse Gesù, se Satana scaccia Satana, egli è discorde con se stesso. Voglio ricordare il contesto nel quale Gesù si trovò a pronunciare queste parole e fare queste affermazioni. Il contesto è che lo accusavano di cacciare i demoni nel nome del diavolo, Belzebul, il principe dei demoni. Naturalmente Gesù risponde, conosciuto il loro pensiero, leggo il verso 25, anticipo un attimo, e dice, ogni regno discorde cade in rovina e nessuna città o famiglia discorde può reggersi. Quindi fa un paragone tra famiglia, città e regni. E dice, un regno dove c'è discordia tra sé e sé non può reggersi in piedi. E qui inizia la nostra affermazione al verso 26. Ora, siccome l'avevano accusato di cacciare i demoni in virtù, nel nome, per la potenza del principe dei demoni, lui dice, se Satana scacciasse se stesso, il suo regno verrebbe meno, non potrebbe reggersi in piedi. Ed è proprio quello che dice. Se Satana scaccia Satana, egli è discorde con se stesso. Come potrà dunque reggersi il suo regno? Dunque Satana ha un regno, cioè ha un potere, un'influenza che esercita in questa dimensione che impatta la vita delle persone. Vedete? E lui dice al verso 27, E se io scaccio i demoni, come avete detto, ci starebbe tra parentesi, in nome di Belzebul, i vostri figli in nome di chi li scacciano, per questo loro stessi saranno i vostri giudici. Questa è una frase un po' più complicata che ora sorvolo per poter venire al punto che stasera noi vogliamo trattare. Ecco qui che dice, ma se io scaccio i demoni per virtù, cioè in forza, per la potenza, grazie allo spirito di Dio, è certo giunto fra voi il regno di Dio. Ecco dunque, qui abbiamo due regni a contrasto. Lo accusano di essere un operatore del regno di Satana che scaccia altri demoni. E lui dice, questo non è possibile che il regno di Satana non si reggerebbe. Piuttosto, se io scaccio i demoni, vuol dire che il regno di Dio è qui perché lo faccio solo in virtù dello Spirito Santo. Ecco dunque che questo concetto dei due regni è veramente fondamentale. Cioè avete visto la volta scorsa il regno di Dio, anzi per più volte l'ho ripetuto, il regno di Dio è il governo, l'autorità sovrana, l'influenza, l'impatto, la direzione che Dio dà alla vita delle persone che lo accettano come il loro Signore. Ed è anche appunto l'insieme di queste persone che si lasciano governare e che fanno avanzare questo regno, cioè questa influenza. Quindi Dio influenza le loro vite e loro influenzati da Dio, impattati dalla sua vita che viene a dimorare, loro a loro volta impattano la terra laddove vivono, si muovono, respirano, esistono. Questo è il concetto di cui stiamo parlando. C'è una cosa che vi voglio accennare questa sera perché è molto importante ed introduce proprio questo discorso dei due regni che si contrastano. E come vedete, scusate torno alla slide precedente, come vedete il fatto che Gesù in virtù, per virtù, per la forza, la potenza dello Spirito Santo caccia i demoni, dice questo vuol dire che lo Spirito di Dio è giunto a voi, è qui. Quindi il segno che il regno di Dio è presente, e vorrei subito chiarire questo, è molto importante, e che è in mezzo a noi, che è qui, è che c'è, è data a un uomo la potenza di cacciare gli spiriti maligni. Tant'è vero che dopo quando Gesù inizierà, e lo vedremo, il suo ministero, la prima cosa che fa, caccia spiriti maligni. E subito tutti dicono, che è mai questa dottrina, è una nuova dottrina, con quale autorità può fare questo? Sono andato un po' a vedere nei commenti ebraici, questo ha senso, perché al tempo era conosciuta una dottrina che parlava degli spiriti maligni, ma nessuno aveva il potere di cacciarli in sostanza. Ecco, questo era il discorso, quindi arriva Gesù e lì caccia, dice che è mai questo? Ha autorità per cacciarli, quindi la novità che Gesù portò come segno, come evidenza, come prova che è re, la potenza contro il demonio. Ecco, e questo, ahimè, voglio dire, spesso in duemila anni di storia, da allora in avanti si è un po' perso, quando invece Gesù ha posto molta enfasi su questo argomento, e lo ha fatto, più che lui non è che ha predicato, lo ha fatto. Ora, noi cerchiamo di rimettere insieme le parti della sua vita, dei Vangeli, dove lui ci fa vedere che cosa, qual è il potere che abbiamo contro le opere delle tenebre per poter cacciare questi intrusi della nostra vita. C'è un passo nel Vangelo che viene spesso, diciamo, compreso male, vi parlerò di questo e anche nelle prossime volte di altri passi che possono avere un'interpretazione un po' più aderente. Perché? Perché è importante per comprendere il regno di Dio e di questa sua potenza. Guardate, nella versione, l'ho chiamata classica, la trovate un po' in tutte le versioni della Bibbia, di qualsiasi denominazione, confessione, fate come volete. Dice, è tradotto così, è Matteo 11, 12, e dice, dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. Questa è la traduzione. Naturalmente la maggior parte delle persone con cui ho parlato nel corso degli anni chiedono sempre, ma che cosa vuol dire questo? Perché non si capisce. Allora io ho sentito varie interpretazioni. Molti dicono che indica la supremazia del regno di Dio. Altri dicono che bisogna agire con una fede violenta contro coloro che vogliono rubare o padronirsi del regno di Dio e della potenza. Insomma, varie opinioni, discordi su questo passo piuttosto oscuro. Ma grazie a Dio abbiamo un po' di luce. Io per questo vi voglio presentare, forse l'ho già fatto in altre occasioni, questo libro è in inglese, vuol dire comprendere le difficili parole di Gesù. Ed è scritto da David B. Winn, Roy Blizzard Jr., edito dalla Destiny Image, ed è l'edizione del 2001. Sono ebrei messianici e quindi riportano le parole di Gesù per capirle al senso ebraico che ci sta sotto, al testo greco che noi abbiamo avuto come originale per noi. e si capisce molto di più. Vediamo un po' che cosa viene fuori dalla revisione di questa frase. Gli autori qui dicono di andare a vedere Michea perché si rifanno come chiave per poter capire questo passaggio a una vecchia interpretazione rabbinica, queste interpretazioni rabbiniche sono chiamate Midrash, di Michea, appunto, Michea 12, 2, 12, 13. Queste interpretazioni rabbiniche erano ben conosciute e spiegavano la scrittura. E il passo di Matteo 11, 12, trova, diciamo, in questa interpretazione di questo passo di Michea una luce nuova. Vediamo, dice, certo ti radunerò tutto Giacobbe, certo ti raccoglierò, resto di Israele. Li metterò insieme come pecore in un sicuro recinto, come una mandria in mezzo al pascolo, dove mugisca lontano dagli uomini. Questa è una storia molto viva, sono versi pieni di ricca immaginazione che riguardano appunto l'azione di un pastore che raduna nel rifugio, nell'ovile sicuro, la sera, le pecore perché stiano protette in un sicuro recinto. E dopo, al verso 13, dice, colui che ha aperto la breccia, e io ho scritto Elia, Giovanni Battista, che poi l'interpretazione ci porta a questo, l'ho anticipato perché possa rimanere nella slide, lì precederà, forzeranno e varcheranno la porta e usciranno per essa. Marcerà il loro re, Gesù, innanzi a loro e il Signore sarà alla loro testa. Ecco, questo passo di Michea è stato così interpretato, come dicevo, da questi vecchi scritti rabbinici, soprattutto da quello che sto citando perché vedeva in colui che ha aperto la breccia un soggetto diverso dal re che marcia innanzi a loro. Normalmente l'interpretazione che davano era che, che molti danno ancora, è che è la stessa persona, colui che apre la breccia è colui che guida le pecore fuori. Qual è la situazione? Pecore radunate nell'ovile la notte, al mattino per aprire l'ovile si apre la recinzione, c'è una breccia nella recinzione, qualcuno apre una breccia e immediatamente esce il gregge guidato e condotto dal re delle pecore. Questa è l'immagine che noi abbiamo. Dice uno che c'entra, che l'idea potrebbe essere anche questo, con quello che abbiamo visto. Ecco, rivisto la luce di questa interpretazione e con una corretta interpretazione e traduzione che riporto da questi autori e la suggerisco così come spunto di riflessione per poter andare a pensare che ci sono delle interpretazioni più fedeli che ci possono aiutare a capire meglio. Allora, vedete, ho messo al raffronto l'interpretazione classica, la traduzione classica, con quella che suggeriscono questi autori. Ed è, dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli e rompe impetuosamente. Io avevo trovato, traducendo dal greco, e quella era la versione mia, di Bivine e di Blizzard, che non era soffre violenza, ma era preme per venire. Cioè, vedevo, il verbo indicava come qualcosa che spinge per fare breccia e il rompere o erompere, perché esce da qualcosa verso l'esterno. E questa era una traduzione giusta, secondo questi autori, e torna anche col greco, e rompe impetuosamente. È l'immagine di un grande bacino d'acqua con una grande diga. Pensate a fare una breccia nella diga, è l'acqua che rompe impetuosamente, spacca tutto ed esce. Ora, l'altra parte del verso, dice, i violenti se ne impadroniscono, in realtà dice, e con esso, cioè con il regno che esce impetuosamente, coloro che vi si trovano. Cioè, se ci sono dei pesci dentro l'acqua e si fa una breccia nella diga, insieme all'acqua escono anche i pesci. Quindi, la frase di Gesù ha un senso, a mio avviso, questo mi ha dato molta luce, ben diverso. E cioè, Gesù sta dicendo a questa gente, il contesto è Matteo 11, quando arrivano i discepoli del Battista, mandati da lui per dirgli, scusa, ma sei te quello che deve venire? È il Battista che era stato messo in prigione. E allora, lui gli dice, andate e riferite a Giovanni quel che vedete, i ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano ai poveri, è predicata la buona notizia del regno dei cieli, aggiungo io, e beato colui che non si scandalizza di me. Come fa Gesù a spiegare a questa gente che è veramente il regno arrivato? Gli dice quali sono i segni, da cui lo possano riconoscere, ma è normale. E questi allora ricevono questa informazione e a quel punto, mentre se ne andavano, lui si mette a parlare di Giovanni alle folle e comincia a dire che siete andati a vedere nel deserto. La sostanza è chi siete andati, chi pensate che sia questo Giovanni che siete andati a vedere, che ha iniziato a parlare, a dire è arrivato il regno dei cieli, cambiate mentalità, è arrivato il regno dei cieli, era l'araldo che precedeva il re, ma chi siete andati a vedere? Ma è un'affermazione forte, non è un uomo avvolto in morbide vesti? Chi siete andati a vedere? Un profeta? Dice lui, sì, più di un profeta. Dice, tra quelli nati da donna, non ce n'è più grande di Giovanni il Battista. Tuttavia, dice, più piccolo del regno dei cieli, è più grande di lui. E a questo punto, dopo questo parlare sul Battista, che arriva la frase, e dice, dai giorni, da quando Giovanni ha iniziato a dire, cambiate mentalità, il regno dei cieli è arrivato, da quel giorno lì, si è aperta la diga, il regno dei cieli è sgorgato, con forza potente, non si ferma più, e chi c'è dentro, chi ne fa parte, esce con lui ed è liberato e trova libertà. Questo è il concetto che stava dicendo Gesù. Quindi, vedete, soffre violenza, violenti sinceri, secondo questa lettura, proprio un po' forviante. C'è un parallelo a questo, suggeriscono sempre questi autori, a cui mi sono rifatto questa sera, il parallelo è Luca 16,16, dove dice, la legge e i profeti fino a Giovanni, da allora in poi viene annunziato il regno di Dio e ognuno si sforza per entrarvi. Quindi, il parallelo sarebbe questo, c'è sempre l'idea dell'entrare nel regno e della forza per entrare nel regno, il regno che ti porta fuori. L'idea qual'era dunque? Guardate, il senso di Matteo 11,12, il regno sgorga impetuosamente nel mondo, come acqua che fuoriesce dalla breccia in una diga e gli individui che sono nel regno trovano libertà e liberazione. Ecco qui la nostra parola, liberazione dagli spiriti maligni, libertà perché è la libertà dei figli di Dio, finalmente posso essere chi sono perché ho riconnesso la mia vita alla mia origine e liberazione da ogni cosa che mi impediva di essere me stesso. Quando sei nel regno funziona così, quindi il tuo valore, il tuo potenziale, il tuo scopo diventa chiaro mano a mano che va avanti e non ti ferma nessuno. Questo stava dicendo Gesù a questa gente. Chi siete andati a vedere? Allora, qui ho riportato anche per correttezza, diciamo, la bibliografia, questi due autori che aiutano molto a comprendere il senso. E torniamo un attimo indietro. Vediamo qui, torniamo al parallelo che ho fatto con Michea di questo greggio radunato in un ovile sicuro. Arriva il giorno, arriva la mattina e c'è uno che fa una breccia, che spacca il recinto e questo greggio esce e chi lo conduce il greggio? Chi c'è la testa del greggio? Il re. Ecco qui, sono tornato un attimo qui per farvi vedere questo. In Malachia è chiaro il parallelo tra Elia e Giovanni. Guardate, manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore, eccetera. Più avanti dice io manderò Elia. Ora, scusate, qui non l'ho trovato, ho saltato una slide ed è un altro passo di Malachia per una versione che sto leggendo è Malachia 3.23, altri hanno altri numeri, comunque dice ecco io vi invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Chi era questo Elia? A chi si riferisce il Signore? Elia rappresenta e lo troviamo dove? In Matteo 11.12 se torniamo un attimo lì Gesù stava parlando del Battista e Gesù dice questa frase del Regno dei Cieli che porta liberazione, libertà a tutti dopo questa frase al verso al verso 13 successivo dice la legge e tutti i profeti infatti hanno profetato fino a Giovanni abbiamo ripreso Luca 16.16 e continua al verso 14 e se lo volete accettare Egli è quell'Elia che deve venire chi ha orecchi intenda lui stava parlando a ebrei che conoscevano la scrittura conoscevano le midrash dei rabbini sapevano esattamente che se lui diceva che quell'Elia che doveva venire Giovanni Battista che ha aperto la breccia e il Regno è uscito con forza lui stava dicendo io sono il re che guida le pecore lui stava dicendo io sono Dio questo è quello che lui stava dicendo ai suoi mentre parlava le folle quindi capite la potenza di questo passo che ha a che fare con l'impatto del Regno di Dio nella vita delle persone e con la liberazione che porta e l'idea di andare fuori dal recinto nella sicurezza di essere guidati dal re ecco mi pareva che per aprire il tema della liberazione agli spiriti maligni non si poteva non parlare del contrasto tra i due regni perché è fondamentale è fondamentale e allora ora possiamo iniziare a vedere alcuni episodi i primi dove Gesù ha a che fare con spiriti maligni guardate cominciando subito dal Vangelo di Marco vedete siamo al capitolo 1 non è che siamo molto avanti quando Gesù si presenta abbiamo più volte riportato la sua frase cambiate mentalità il regno dei cieli è arrivato ripetendo le parole di Giovanni ma cosa faceva guardate subito ha a che fare con i demoni 1 23 28 allora un uomo che era nella sinagoga afflitto da uno spirito immondo si mise a gridare Gesù si trova in una sinagoga e questo spirito immondo si mette a gridare in effetti grida l'uomo che era afflitto vedete alcune versioni dicono posseduto da uno spirito maligno ma quest'idea del possesso a noi non è mai piaciuta perché insomma indica quasi un titolo di proprietà sulla persona ma qui il demonio la parola greca anche indica una demonizzazione cioè un'influenza maligna quindi è un'afflizione ecco perché questa l'ho messa io questa parola afflitto da uno spirito maligno non posseduto afflitto da uno spirito maligno si mise a gridare che centri con noi Gesù Nazareno sei venuto a rovinarci io so chi tu sei il santo di Dio e Gesù lo sgridò taci esci da quell'uomo e lo spirito immondo straziandolo e gridando forte uscì da lui tutti furono presi da timore tanto che si chiedevano a vicenda che è mai questo una dottrina nuova insegnata con autorità comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono vedete il punto che la gente rimaneva su cui la gente rimaneva meravigliata era non solo che comandava gli spiriti immondi ma anche questi gli obbedivano e la sua fama si diffuse subito e ovunque né dintorni della Galilea quindi all'inizio del suo ministero pubblico Gesù si misura subito e affronta immediatamente gli spiriti maligni queste sono le cose che lui ha fatto ricordare vedete anche che noi stiamo parlando di un tema che è l'incarico di Gesù e anche il tuo questo è il tema ora il sottotema nella serie del Regno dei Cieli che stiamo affrontando perché ci interessa perché quello che lui ha fatto ha detto di farlo anche ai suoi e ha dato anche a noi lo stesso incarico questo che spesso è dimenticato e trascurato allora il demone che risponde che centri con noi ecco risponde uno spirito immondo però parla plurale quindi era uno o più chi ha avuto esperienza di questo sa di cosa parlo che centri con noi Gesù Nazareno se è venuto a rovinarci lo so chi sei il santo di Dio il demone sapeva benissimo e subito chi era i suoi discepoli ci hanno messo un bel po' per capire chi fosse Gesù ricorderete la prima rivelazione su questo l'ebbe Pietro quando ebbe quelle parole tu sei il messia quindi Gesù parla allo spirito vedete come si riferisce non all'uomo Gesù lo sgridò dice taci esci da quell'uomo cioè parlava alla persona apparentemente ma in realtà dice esci da quell'uomo come se parlasse ad una persona dentro quella persona ma si riferisce allo spirito maligno non si riferisce all'uomo dal quale lo ha cacciato e quello che è veramente importante vedere è che essendo in una riunione in una sinagoga dove si trovavano per leggere la scrittura per quindi uno che inizia a fare delle avere delle manifestazioni del genere ecco forse a quei tempi come anche ai nostri è più facile prendere l'uomo e portarlo fuori dalla sinagoga era forse la cosa più normale per loro perché disturbava al contrario Gesù caccia lo spirito maligno da quest'uomo che voglio dire con questo voglio dire che quando abbiamo a che fare con spiriti maligni questi vanno cacciati dalle persone ma non vanno allontanate le persone che sono afflitte dagli spiriti maligni perché hanno bisogno di liberazione Gesù ha dato a noi quell'incarico se non lo facciamo noi chi lo fa questo è il punto quello che avvenne dunque qui vorrei farvi vedere fu proprio un contatto tra spirito a spirito Gesù con questo spirito e Gesù fu conosciuto da tutti vedete la sua fama si diffuse dovunque nei dintorni della Galilea lui fu conosciuto perché che comandava gli spiriti maligni e questi gli obbedivano se avessero fatto una domanda chi è questo Gesù è colui che comanda gli spiriti maligni questi li obbediscono cioè era il suo biglietto da visita era noto per questo fu il suo primo impatto nel ministero pubblico quindi come trattare gli spiriti maligni come affrontarli e cosa farne ci ha dato dimostrazione il signore taci esci da quell'uomo quindi questo è quello che Gesù fa di fronte a questa nuova situazione per la gente la stessa cosa guardate poco più avanti nello stesso capitolo 1 del Vangelo di Marco troviamo che venuta la sera dopo il tramonto del sole li portavano tutti i malati e gli indemoniati tutta la città era riunita davanti alla porta guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano allora innanzitutto è venuta la sera vedete perché era un sabato e quindi non potevano muoversi più di tanto sapete bene avevano queste regole il giorno di sabato quindi aspettarono la sera per poter portare i malati e gli indemoniati cioè coloro che erano afflitti da spiriti malini a Gesù tutta la città si era riunita davanti alla porta e li portarono questa gente che era afflitta da demoni che vuol dire l'afflizione uno quando è che è afflitto da spiriti malini da demoni quando delle aree della sua persona o personalità a seconda che siano afflitte aree tipo le emozioni tipo l'intelletto tipo la volontà eccetera oppure aree della sua persona se fosse afflitto il corpo attraverso l'azione diretta di spiriti malini ecco a questo mi riferisco a questo tipo di afflizione dopo vedremo meglio quello che mi interessa qui in questo passo evidenziare è il parallelo che c'è più che parallelo è come un viaggio quasi simbiotico vorrei dire che fanno la malattia e il demone cioè dovunque c'erano i malati Gesù cacciava gli spiriti immondi perché perché molte malattie sono direttamente causate dagli spiriti maligni quindi queste azioni che fa Gesù che guarisce cacciando anche molti demoni è sintomo che quando ci sono delle malattie che hanno una causa diretta nell'azione dello spirito maligno la preghiera da fare che più che preghiera è il comando da dare lo spirito maligno di andarsene via questo è quello che Gesù faceva in questi casi molti spiriti maligni l'ho già detto sono la causa diretta di molte malattie quindi è evidente che per essere liberato da molte malattie vanno cacciati gli spiriti maligni che li hanno causati ecco quindi vorrei anche riferirmi a molte esperienze personali che abbiamo fatto di cui abbiamo perché qui siamo diversi non è una cosa che riguarda solo me ma tutti noi svolgiamo questo ministero esperienze personali dove le malattie a volte se ne sono andate perché sono stati cacciati gli spiriti che ne causavano quindi abbiamo esperienza diretta e ne ho anch'io di persone che hanno pregato per me che ero afflitto apparentemente da malattie che erano vere cacciati gli spiriti maligni sono spariti i sintomi ma parlo di malattie importanti che mi avevano messo a letto nell'impossibilità di potermi muovere per svolgere dei ministeri per il Signore e quindi devo dire ecco non lo dico solo perché è nel Vangelo così non lo dico solo perché è l'immediata lettura che se ne può dare ma anche perché è la mia esperienza personale questo non vuol dire che tutte le malattie sono causate direttamente dallo spirito maligno che cosa voglio dire con questo voglio dire che ci sono delle malattie che non hanno non sorgono per effetto diretto dell'azione demoniaca ma il demone ha magari come dire tentato la persona e le ha suggerito di sviluppare determinate attitudini nocive che poi hanno portato alla malattia quindi in questo senso dico indiretta azione ma sempre lui è la causa e l'origine di ogni male è sempre riconducibile all'azione satanica la malattia è entrata nel mondo per l'invidia di questo spirito immondo insomma non è che Dio non ci ha creati per la malattia è entrata con il peccato il peccato ha la sua origine in questo suggeritore ecco dunque se andiamo ancora avanti sempre in questo capitolo molto ricco di Marco troveremo e gli disse loro andiamocene ai versi 38 39 altrove per i villaggi vicini perché io predichi anche là per questo infatti sono venuto vedete lui dice sono venuto per predicare annunciare il regno dei cieli dovunque possa arrivare e andò per tutta la Galilea facendo che cosa predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni guardate ancora una volta questo è il terzo passo nel primo capitolo di Marco che troviamo dove lui caccia i demoni come prima cosa quindi che vuol dire questo vuol dire che non lo faceva occasionalmente ma era qualcosa che era un ministero continuo che lui faceva dovunque andava predicava guariva cacciava demoni predicava guariva cacciava demoni questo era il modo di operare di Gesù dovunque andasse ho detto io sono venuto per questo per predicare però dove predicava cacciava demoni perché lui è venuto dice Giovanni per distruggere le opere del diavolo e quindi capiamo di quello di cui stiamo parlando Gesù è anche importante notare che non separò mai la predicazione dalla la liberazione dagli spiriti maligni e dalla preghiera per la guarigione queste tre cose l'ho detto prima lo ridico ora queste tre cose nel suo modo di operare erano sempre insieme e ecco quello che mi domando io ancora ancora una volta è e oggi nella nella chiesa che cosa cosa vediamo che cosa succede queste tre cose vanno sempre insieme perché quando quando si predica prima di tutto il messaggio dovrebbe essere ed è il messaggio del regno di Dio non altri messaggi mentre già nella predicazione sentiamo di tutto ma insieme alla predicazione c'è l'azione che è quella di cacciare demoni e e e guarire i malati attraverso la preghiera e sappiamo bene Gesù disse questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono il primo segno lo dirò dopo meglio e cacceranno demoni nel mio nome e imporranno le mani ammalati e questi guariranno quindi insomma è il segno di apertura e il segno finale dunque se noi guardiamo a Luca 4 40 41 troviamo ancora un parallelo è lo stesso evento di Marco 1 32 ve lo voglio leggere perché è importante vedere anche questi paralleli che cosa succede al calare del sole tutti quelli che avevano infermi colpiti da male di ogni genere li condussero a lui ed egli imponendo su ciascuno le mani li guariva da molti uscivano demoni gridando tu sei il figlio di Dio ma li minacciavano li lasciava parlare perché sapevano che era il messia allora vedete arrivano li portano i malati lui li impone le mani per guarirli ed escono i demoni ancora una volta c'è il il gioco tra la malattia e il demone e quindi l'azione della guarigione passa dalla liberazione dallo spirito maligno che causava la malattia non è sempre così ma molte volte spesso è così quindi siccome lo troviamo nel Vangelo noi bisogna averlo presente questo ecco Luca 13 11 17 la storia della donna piegata che da 18 anni uno spirito la teneva in ferma inizia così il racconto era sempre in una sinagoga di sabato ricordate questo episodio l'ho raccontato anche per altri motivi in relazione alla religiosità della gente che c'era e al diritto dei figli di Abramo di avere ciò che li spetta nel regno dei cieli stasera lo vediamo sotto un altro aspetto sotto questo aspetto del ministero di liberazione di Gesù guardate c'era una donna che aveva da 18 anni ci pensate 18 anni piegati in due che la teneva in ferma era curva e non poteva drizzarsi in nessun modo io ecco ci ho fatto caso oggi mentre preparavo le slide ho proprio detto non poteva drizzarsi in nessun modo cioè 18 anni non era era una cosa rigida e impedita nei movimenti insomma era un vero tormento per 18 anni e Gesù la vide la chiamò a sé e le disse donna sei libera dalla tua infermità vedete come la chiama questa cosa qui infermità la chiama quindi sembra riferirsi ad una cosa fisica ma ora vediamo che cosa era in realtà e le impose le mani subito quella si raddrizzò e glorificava Dio ma il capo della sinagoga sdegnato perché Gesù aveva operato la guarigione di sabato rivolgendosi alla folla disse insomma non venite qui a chiedere di guarire di sabato perché siamo impegnati in altre cose ci sono delle regole insomma non si può fare non sta bene essere guariti di sabato questa è la frase lo dico un po' scherzosamente però è piuttosto pesante e allora il Signore replicò ipocriti e gli fece l'esempio ricorderete del buio dell'asino se si trovano difficoltà che fate non li aiutate questa figlia di Abramo che Satana ha tenuto legata a 18 anni non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato i suoi avversari si vergognavano la folla esultava vedete vedete cosa mette in evidenza cosa è successo cosa ha fatto Gesù in tutto questo trambusto che si è creato in quella sinagoga quel sabato mattina ha cacciato un ospito in mondo ha imposto le mani su una donna e l'ospito maligno se n'è andato immediatamente e questa donna si è subito raddrizzata dunque che cosa possiamo vedere noi da questo esempio Gesù non affrontò la malattia l'infermità gli disse che era liberata dall'infermità che era l'effetto della legatura satanica Gesù affrontò l'aspetto spirituale della causa di quella stessa infermità e disse lo disse chiaramente che era satana che l'aveva legata in questa condizione fisica difatti uscito e andato via all'ospito maligno la donna si è immediatamente raddrizzata e la condizione fisica è tornata è stata restaurata come era 18 anni prima dunque un altro chiaro esempio vedete Luca 13 32 anche questa è una frase che molte volte non si riesce a capire parla di Erode Gesù dice andate a dire ad Erode lo chiama quella volpe ecco io scaccio i demoni e compio guarigioni oggi e domani e il terzo giorno avrò finito il terzo giorno è un ebraismo che viene usato per dire dopo domani quindi Gesù dice oggi domani e dopo domani io scaccio demoni la frase ha questo significato andate a dire ad Erode che io ho iniziato cacciando i demoni e finirò cacciando i demoni non cambio niente questo è quello che io ho fatto dall'inizio e questo è quello che farò fino alla fine vedete è una frase molto forte il terzo giorno avrò finito è piuttosto importante perché ci fa vedere non solo la determinazione di Gesù ma che nel suo ministero non era contemplata un'alternativa cioè il metodo Gesù contro gli spiriti maligni è di cacciarli con l'autorità che solo Dio può avere questo è il metodo Gesù e noi perché vorremmo cambiare il metodo o trovarne uno alternativo o altro il metodo è sempre lo stesso non ce ne sono altri da questo vorrei prendere altri dieci minuti soltanto per vedere qual è l'autorità e le istruzioni che Gesù ha dato ai suoi discepoli perché anche qui è piuttosto semplice molte volte entriamo in in certe difficoltà che ci creiamo anche da soli quello che Gesù ci ha detto di fare è semplice lui l'ha dimostrato è semplice taci esci da quell'uomo donna sei guarita dalla tua infermità cioè non è che bisogna studiare per fare questo ecco quello che voglio dirvi è che anche per mettere insieme queste poche cose non è che c'è bisogno di una grande capacità interpretativa sono lì basta metterli insieme e poterli presentare in un modo che scorra logicamente perché si possa apprendere ma 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 è semplice cioè Gesù andava per la Galilea andava a Gerusalemme quando ci andava e che faceva annunciava a tutti che il regno dei cieli il regno di Dio era arrivato e lo dimostrava cacciava demoni e guariva malati poi ha fatto anche altre cose ha sfamato cinquemila persone una botta sola con qualche pane e qualche pesce l'ha fatto due volte questo camminava sull'acqua seccava i fichi passando ci ricordiamo tutti di queste altre cose che lui ha fatto ma la costante ministeriale di Gesù era questa predicare liberare e guarire predicare liberare e guarire e predicare non predicava altre cose non predicava la politica non predicava la chiesa non predicava teologie particolari non predicava dottrine rituali ecc lui non predicava su queste cose predicava il messaggio del regno di Dio molto semplice molto semplice e quando chiama a sé i dodici discepoli vediamo che cosa gli dice diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità ecco non è che gli ha dato un potere di capire e studiare e quindi di poter fare cose che richiedono attitudini talenti particolari che grazie a Dio ci sono molti hanno non sto dicendo niente di contrario su questo anzi però voglio dire che è semplice e qual è la prima autorità che Gesù ha dato qual è il primo potere che Gesù ha dato ai discepoli ai dodici di scacciare gli spiriti immondi e di guarire i malati che incontrano per la strada questi dodici Gesù li inviò dopo averli così istruiti non andate fra i pagani non entrate nelle città dei samaritani rivolgetevi tre piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele e strada facendo questa è la quarta istruzione vedete da istruzioni allora torno al verso 5 questi dodici li inviò dopo averli così istruiti questi sono le istruzioni che Gesù ha dato prima gli ha dato il potere e l'autorità e dopo gli ha dato istruzioni su come usarla ma è semplice veramente se fosse un manuale di istruzioni come è quante volte l'abbiamo detto questa è la nostra costituzione è il nostro manuale di istruzioni ma è così è un manuale semplice allora da istruzioni prima di dove andare a chi rivolgersi quindi un problema di target potremmo dire a chi rivolgersi e poi dice strada facendo ecco qui che cosa devono fare prima ha detto dove andare chiaro dove andare e a chi rivolgersi perché abbiano chiaro il target e poi dice predicate che il regno dei cieli è vicino e guarite gli infermi risuscitate i morti sanate i lebrosi cacciate i demoni poi seguono le altre istruzioni fatelo gratis perché nessuno mi ha chiesto soldi per darvi l'autorità che avete fatelo gratis ok non non preoccupatevi di avere le cose perché le cose di cui avete bisogno per il ministero che vi sto affidando vi verranno date chiaro quindi tutti noi abbiamo ricevuto l'incarico dal Signore tutto quello di cui avremo bisogno per svolgere il nostro incarico non ci mancherà e Gesù disse non vi preoccupate di quello che mangerete che berrete che vestirete perché di queste cose si preoccupa chi non ha fiducia in Dio dunque le istruzioni che qui ci interessano che sono quelle su cosa fare è predicare il regno dei cieli che è arrivato vorrei ancora sempre grazie a questi autori e anche altri che ci parlano di queste parole difficili di Gesù parlo non soltanto dei Bivine e Blizzard ma anche dello Steiner eccetera sono altri ebrei messianici che grazie a Dio ci danno luce su questo quando si dice Gesù il regno dei cieli è vicino e anche Giovanni dice questo per gli ebrei per la lingua ebraica che parlavano voleva dire è qui perché se quando uno diceva è vicino vuol dire che era arrivato ecco invece se uno dice è vicino uno può pensare che fa sempre in tempo ad arrivare e quindi non è arrivato ma è vicino ecco no è vicino vuol dire è arrivato dunque predicare che il regno dei cieli è vicino e poi togliere afflizione dalle persone come guarendo e cacciando i demoni queste erano le istruzioni ma ci pensate la semplicità di questa cosa sono tutte cose guarite gli infermi malattie le infermità sciolte abbiamo visto come era legata all'inferma dell'episodio precedente risuscitare i morti i morti Gesù ha risuscitato i morti abbiamo altri episodi di morti risuscitati nella scrittura e Gesù è risorto dai morti voglio dire questa storia della risurrezione e di persone risuscitate che ritornano in vita non con un corpo come quello di Gesù glorificato come si dice ma con il loro corpo nella stessa condizione che avevano prima di morire pensate a Lazzaro per esempio viene in mente subito lui ecco ancora oggi in molte parti del mondo attraverso il ministero di molti ministri di Dio cristiani che si fidano di Dio che esercitano la potenza e la società che hanno si ha notizia di gente di persone che tornano in vita ed erano morti ecco basta andare su Youtube li trovate cioè non è che si stavano dicendo cose segrete noi stessi abbiamo fatto esperienze piuttosto vicine a questo ne parleremo magari un'altra volta ma sono cose che succedono perché Gesù ha dato il potere d'autorità ai suoi di fare questo poi guardate sanare i lebrosi ancora riferito a una malattia cacciare i demoni si sanare i lebrosi vuol dire mondarli dai loro peccati in modo figurato va bene ma la lebra era una malattia al tempo era importante e ancora oggi in molte parti del mondo dunque che cosa volevo dire e l'ho detto che che le istruzioni sono molto chiare non solo a quei dodici ma poi ne istituì settanta ora sapete benissimo dodici discepoli dodici tribù di Israele settanta è lo stesso numero che erano quelli scelti da Mosè e poi ancora i settanta settanta era il numero di coloro che componevano il sinedrio quindi c'è un nel settantadue qui c'è un un riferimento chiaro comunque dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per regarsi allora un'altra cosa molto semplice quando Gesù ti manda ti manda due a due e questo è importante perché noi abbiamo fatto esperienza in quanto essere in due ti consente sempre di poter contare su qualcuno per qualsiasi bisogno si verifichi durante la strada noi abbiamo ripeto fatto questa esperienza il Signore quando ci chiamò a me e Fabrizio c'era anche Angela a dire la verità eravamo quindi in tre e ci chiamò in un modo potente in un modo molto convincente vorrei dire perché eravamo attratti proprio nel senso totale della potenza del Signore e quando questo successe fu chiaro a noi anche questo dire di Gesù due a due perché due a due perché nel percorso che poi abbiamo iniziato predicando il Regno dei Cieli cacciando i demoni e guarendo i malati perché questo abbiamo iniziato subito a fare e se non eravamo in due eravamo in grosse difficoltà per sostenerci per pregare l'uno per l'altro anche durante una preghiera di liberazione a volte non sai che cosa può succedere c'è bisogno di sostegno e di essere in due quindi ha un senso questo per chi non l'ha sperimentato forse è una cosa soltanto della lettera teorica ma ha proprio senso e ancora diceva loro ho saltato alcuni versi quando entrerete al verso 8 in una città e vi accoglieranno la condizione che vi accolgano che devono fare curate i malati che vi si trovano e dite loro se è avvicinato il Regno di Dio ora noi non sappiamo molto di più sulle istruzioni se non questo curate i malati che vi si trovano il fatto è che se l'istruzione era stata questa quando tornano noi sappiamo il resoconto che hanno fatto e qual è il resoconto tornarono pieni di gioia dicendo signore anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome cioè di tutto quello che erano andati a fare quello che gli aveva colpiti più di tutto era il fatto che i demoni li obbedivano al nome di Gesù scappavano e quindi la gente veniva liberata quindi se l'istruzione era curata i malati e tornano e dice anche i demoni scappavano c'è ancora il collegamento forte tra la malattia e la presenza dello spirito maligno cosa molto importante sempre da tenere presente infatti lui gli disse io vedevo satana cadere dal cielo come la folgore vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti dragoni in alcune versioni scorpioni eccetera su ogni potenza del nemico nulla vi potrà danneggiare non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi ma piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli allora che cosa dice Gesù sta dicendo che ha dato a loro per lui era normale perché gli aveva dato questa autorità abbiamo visto con i dodici discepoli poi non ci è detto tanto in queste istruzioni a settantadue ma è evidente che era la stessa cosa perché questi tornano e raccontano che i demoni fuggono e Gesù dice è normale io ve l'ho dato questo potere e c'è un'altra cosa che aggiunge lo voglio sottolineare perché spesso si creano delle leggende su questa cosa che quando preghi cacci demoni eccetera ti può succedere qualcosa di male questa cosa a volte lo dicono ma Gesù ha detto non vi può succedere niente di male i demoni gli spiriti malini non sono virus che si attaccano quindi se noi siamo fedeli all'incarico e abbiamo fiducia in lui e sappiamo chi siamo ma loro hanno paura di noi hanno hanno il terrore perché portiamo il re lo spirito santo è noi e avete visto che reazioni avevano davanti a Gesù noi sappiamo chi sei si è venuto a rovinarci prima del tempo tremano quando il signore si fa presente attraverso i suoi ambasciatori che sono coloro che lui ha chiamato e ha scelto tutti gli uomini hanno la possibilità aderendo alla salvezza che Gesù ha portato di entrare nel suo regno non è un club esclusivo non è una sala d'attesa come c'è negli aeroporti per quelli che hanno i biglietti migliori è per tutti la porta è lui chi passa da lui entra nel regno bene allora sto concludendo vorrei vedere ecco qui abbiamo la traduzione in slovacco rimarrà nella nel filmato ecco sì questo volevo finire di leggere vedete il verso 21 Gesù esultò nello spirito santo quando questi gli dissero i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome è il punto dei vangeli in cui Gesù ha esultato nello spirito santo quando è che ha esultato gli ha detto ma benedetti voi gli ha detto grazie padre che riveli queste cose ai piccoli ve l'ho spiegato prima che non c'è da studiare tanto conta il cuore e conta se siamo sottomessi a lui e formiamo con lui un solo spirito e poi lui dice grazie padre lode a te che hai detto queste cose ai piccoli dice mi è stato dato ogni cosa dal padre mio nessuno sa chi è il figlio se non il padre né il padre né chi è il padre se non il figlio è colui il quale il figlio lo voglia rivelare e poi si voltò ai discepoli e disse beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete ma non lo vedere o dire ciò che voi udite ma non lo dire o no allora la liberazione comandata nel nome di Dio e gli spiriti se ne vanno e obbediscono a un uomo che comanda lo spirito di andarsene io nel vecchio testamento non ho ricordanza che ci sia non ho ricordanza c'è un episodio in cui Davide suona la cetra e lo spirito maligno va via da Saul vi ricordate questo episodio ma non è che lui ha cacciato lo spirito con l'autorità di cacciare lo spirito che lo suonava ecco quindi c'è qualcosa quando Gesù arriva e comincia a cacciare gli spiriti immondi questo è un uomo che ha autorità su cose che non vedi chi sono questi spiriti sono persone senza corpi hanno hanno una loro personalità hanno una loro specializzazione le aree che colpiscono creano debolezze nella gente suggerendo disastri e quindi sono come persone senza corpo e Gesù prende con l'autorità che gli è propria e che è nuova per tutti perché perché non si è mai visto prima vorrei farvi proprio trasmettervi questo quando dicono ma che è questa nuova dottrina con questa autorità perché non c'era mai stato nessuno prima che l'avesse fatto la novità dell'avvento del regno di Dio è che i demoni scappano se i credenti si riappropriassero di questa verità di questa potenza che è stata data a chi vive nello spirito santo ecco questo è un mio desiderio ho detto se i credenti si riappropriassero va bene voglio chiudere ecco qui Giovanni scusatemi Marco 16 andate in tutto il mondo predicate il Vangelo a ogni creatura la chiusura quindi questa istruzione prima cosa predicate il Vangelo cioè il Vangelo è la buona notizia di cosa del regno di Dio poi chi crederà sarà battezzato eccetera salto non perché non sia importante ma perché voglio arrivare al punto visto il tempo che non mi è rimasto il verso 17 dice e questi saranno i segni che accompagneranno quelli che hanno fiducia in me vuol dire credono che hanno fiducia in me guardate ah nel mio nome scacceranno demoni parleranno lingue nuove prenderanno in mano serpenti se berranno veleni non recheranno loro danno imporranno le mani ai malati e questi guariranno poi dice che lui fu assunto un cielo loro andarono a predicare e dovunque Gesù era con loro e confermava con segni miracoli e prodigi la parola che veniva predicata quindi il segno che lui era con loro era che le stesse cose che lui faceva avvenivano anche dopo che lui era andato perché il suo spirito era in coloro che operavano nel suo nome questo è semplice è così semplice e ancora l'ultima slide è proprio questa Gesù la finale di Matteo disse loro mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra andate dunque ammaestrate tutte le nazioni battezzando il nome del padre e il figlio dell'ospito santo insegnando loro osservare tutto ciò che io vi ho comandato cosa le ha comandato tra l'altro predicate cacciate demoni guarite i malati tra l'altro perché ha insegnato tante altre cose ma queste sono cose che lui ha insegnato e quindi mentre noi andiamo e facciamo discepoli dovremmo equipaggiare le persone eh per poter svolgere il ministero quindi non mandò Gesù non mandò mai nessuno a predicare la buona notizia i dodici settantadue e qui dice tutti avranno questi segni che li accompagnano senza specificatamente istruirli ed equipaggiarli per cacciare gli spiriti maligni lo ripeto non mandò mai nessuno senza averli istruiti ed equipaggiati per cacciare gli spiriti maligni e sanare i malati questo è quello che Gesù fece con chiunque quindi anche se noi oggi quando siamo mandati e quando mandiamo persone noi dovremmo avere la stessa preoccupazione di Gesù e cioè proprio questo che ho detto ora istruire le persone ed equipaggiarle su cosa? su questa battaglia e il contrasto tra i due regni cosa succede quando c'è il contrasto tra i due regni? a cosa serve che quando Gesù all'inizio voglio tornare a questa prima slide eccolo qua del contrasto tra i due regni sono due regni opposti è la grande unica prova della venuta del regno di Dio è la cacciata dei demoni guardate qual è la prova Gesù dice da cosa vedrete che il regno di Dio è arrivato il satana fugge quindi quando scappano per la potenza dello spirito santo vuol dire che il regno di Dio è venuto quindi la la liberazione così la chiamiamo questa azione ministeriale dove si si porta l'autorità che Dio ha dato ai credenti in Gesù Cristo ecco è una liberazione dagli spiriti maligni si manifesta i due regni c'è il regno delle tenebre il regno della luce quando si incontrano questi due regni c'è un contrasto e la luce sconfrigge le tenebre e satana odia questo fatto perché viene messo in luce e scompare le sue opere sono distrutte lui ha terrore di questo momento e odia questo momento quindi cosa viene rivelato quando la luce mette fa distrugge le tenebre prima di tutto che i demoni sono reali perché quando preghiamo per la liberazione sono entità esseri senza colpo reali che affliggono le persone lavorandole da dentro e che Gesù ci ha dato autorità contro di loro quando noi preghiamo e queste cose avvengono è il segno che ci sono e che noi abbiamo autorità sopra di loro è il segno che c'è il contrasto tra i due regni e che è arrivato il regno di Dio perché li mette in luce e quindi sono finiti dunque se preghiamo e si manifesta la presenza di qualche spirito maligno gloria a Dio perché una volta visto è finito in quanto è delle tenebre e quando è visto è alla luce quindi il diavolo ha cercato per duemila anni di mettere a tacere questo che sto dicendo anche stasera tra i cristiani di metterlo a tacere perché rivela il suo regno e dimostra la sua sconfitta ecco mi fermo qui ma se io scaccio i demoni per virtù in forza per la potenza vuol dire dello spirito di Dio è certo giunto a voi il regno di Dio è la prova l'evidenza è un miracolo bene allora credo stasera di aver concluso questo primo approccio a questa materia in modo molto semplice con il Vangelo niente di più riflessioni semplici per tutti potete prendere il Vangelo e trovare altri passi paralleli altri sviluppi per poter nutrire il nostro spirito della verità affinché si radichi bene in noi vedremo le prossime volte gli sviluppi di questo argomento sono molto importanti e ci possono insegnare ad affrontare delle difficoltà della nostra vita e ritrovare la pace la salute la tranquillità per poter funzionare al meglio bene con questo nel nome di Gesù Cristo vi salutiamo da Siena vi benediciamo noi continueremo a pregare per la liberazione tra di noi l'invito è anche a quelli che sono a casa a fare altrettanto se siete più di uno se sei da solo al video prega nel nome di Gesù Cristo esercita quella autorità che ti è stata data bene allora ci vediamo mercoledì prossimo ricordo a tutti il seminario di fine mese il 24 febbraio qui a Siena non verrà trasmesso ma chi vuole venire può partecipare sulla l'albero di famiglia che cosa la liberazione la guarigione perché scopriremo in quella in quella in quel frangente che molte delle afflizioni che ci ritroviamo a subire durante la nostra vita vengono dalla famiglia dagli antenati e quindi anche questo ci aiuta a comprendere quali sono le cose che ci vengono trasmesse che non sono la nostra eredità perché la nostra eredità è il regno di Dio e quindi imparare a riconoscerle e mettere una netta divisione tra noi ed ogni maledizione ancestrale che ci possa inseguire bene con questo vi do un saluto e una benedizione a mercoledì prossimo sempre su la nostra web tv dalla Siena canto nuovo pace a voi grazie a tutti